Nel frattempo si stanno avvicinando i piloti in blu e bianco vestito e cominceremo le premiazioni con la classe GPX A consegnare il premio sarà l'incredibile e romantica Erika Facconi, event manager per Yamaha Italia Quindi vado a chiamare Erika ad avvicinarsi qui al mio fianco Sei già qua, ma porca no che io che guardavo mi aspettavo e invece sei qui subito vicino a me Molto bene, grande Erika, hai un titolo nobiliare, guarda, event manager coordinato, tanta 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 roba Allora il terzo gradino del podio, ladies and gentlemen, è a favore di Giacomo Ferrari Eccolo lì Giacomo Ferrari, questa sera a Sciaboli una bella bottiglia Va a consegnare la nostra Erika Molto bene, il secondo gradino del podio è per Rodolfo Rosso, sempre categoria GPX Eccolo che arriva Rodolfo Sciono, si mette anche il cappellino per l'isponso, giustamente Grande Rodolfo, un bel gradino del podio il secondo, ma è sempre meglio essere sul primo Giusto o vera? Essere precisini Gradino più alto del podio a favore di Davide Righi Grande Davide Righi Per Valentini mortò Davide Righi, cioè eccolo qui il trittico della Challenge Yamaha Tenere Categoria, o meglio classe GPX, scatti fotografici